Gestire l'emergenza stranieri, in particolare quelli ospiti del CARA, il centro di accoglienza per richiedenti esilo di Borgo Mezzanone e quelli che dimorano nelle baracchie adiacenti al centro. È l'obiettivo del prefetto Yolanda Rolli, nominata ieri commissario straordinario del governo per l'area del comune di Manfredonia, per il superamento, si legge in una nota della prefettura di Foggia, della situazione di particolare degrado di quell'area caratterizzata da una massiva concentrazione di cittadini stranieri. Il riferimento dunque è proprio al CARA di Borgo Mezzanone, che si trovano a decine di chilomeri da Foggia, ma che appartiene al comune di Manfredonia. Già in passato sono state registrate tensioni tra la popolazione della Borgata e gli ospiti del CARA, una situazione che in più di un'occasione è sfociata in proteste vibranti dei residenti che hanno anche bloccato l'unica via di accesso alla Borgata impedendo il transito dei mezzi pubblici. Una difficile convivenza aggravata anche dall'eccessiva presenza di cittadini stranieri, oltre a quelli che sono regolarmente ospitate nel CARA, un ex aeroporto militare, il cui numero si aggira intorno ai 1200, ci sarebbero altri mille stranieri che vivono nelle baracche realizzate a ridosso di quella che viene denominata l'ex pista. La nomina del prefetto Rolli era stata annunciata anche dal ministro dell'interno Marco Minniti durante la sua visita a Foggia all'indomani della mattanza avvenuta sul Gargano.